Sono due al momento i candidati sindaco in campo per le amministrative di Caronia, Calogero Matasse, indicato dal gruppo che sostiene l'amministrazione uscente, e Tindaro Lamonica, consigliere di opposizione. A fianco di Lamonica si schiere il movimento Giovani per Caronia, che sta conducendo una serie di iniziative sul territorio, dalla manutenzione di scorci del centro storico alla raccolta firme. Noi ci siamo messi a disposizione dei cittadini, dunque, anche per far vedere che giovani e far capire che giovani a Caronia ci sono. Abbiamo fatto delle petizioni politiche, che praticamente a sostegno del movimento, cercando un chiaro aiuto anche dai cittadini a sostenerci e a sostenere il paese tutto. Abbiamo fatto delle pulizie stradali, praticamente abbiamo organizzato tante già riunioni con i giovani di Caronia, per assimilare tutti quelli che sono tutti i giovani a Caronia. Il movimento schiererà un suo rappresentante nella lista a sostegno di Lamonica. Uno di noi si dovrà concedere al Consiglio Comunale e rappresenterà il movimento Giovani per Caronia. Questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo sarà quello che la scelta di un assessore dovrà essere fatta anche con noi. Noi non imponiamo, non dettiamo leggi, non facciamo ricatti. E' ovvio che la condizione di nominare, di candidare uno di noi, di nominare uno del gruppo o fuori dal gruppo che sia scelto dal sindaco in libertà e autonomia, un assessore che sia giovane, sia anagraficamente parlando, che a livello mentale, che abbia delle idee innovative e quindi uno svecchiamento della classe politica caronese. L'altro obiettivo è quello che tutti i nostri programmi devono essere sposati e fatti unire insieme alla lista che sostiene il candidato sindaco Lamonica.